Fotoclub La Chimera, Paolo Lacrimini espone però non solo foto in questa mostra. No, non solo foto perché io ho tante passioni e quindi qui ho cercato di riunire un po' delle cose che mi piacciono. E allora qui si passa dalla fotografia al basso rilievo e altre cose particolari come carnevali, come presepi eccetera. Però diciamo che la materia principale qui è la fotografia perché siamo in un fotoclub e quindi quello è quello che ha avuto una maggiore esposizione in questa sede. Aperta fino al 17 di dicembre, quindi chi visiterà la parte alta di Arezzo potrà anche visitare questa mostra. Qual è il tema di questa tua esposizione? C'è un tema principale? Il tema principale io ho intitolato questa mostra esperienze artistiche perché siccome ho fatto tante esperienze, perché io mi appassiono di tante cose e quindi mi piace spaziare da un campo all'altro e quindi ho voluto riunire un po' di queste esperienze che ho fatto durante la vita e ho fatto questa piccola mostra in questo locale che mi ha messo a disposizione il Fotoclub.